Cosa sta facendo Pogba in attesa delle contraanalisi? La notizia è ormai nota a tutti, il centrocampista francese è stato trovato positivo al doping, nello specifico al testosterone. Il test è stato effettuato dopo la prima giornata di campionato, Udinese-Juventus, del 20 agosto. Pogba avrebbe usato un integratore in America, consigliato da un amico medico e non dallo staff bianconero. Ma cosa sta facendo Pogba in questo momento? La Juventus ha ridotto il suo stipendio al minimo salariale, circa 2.000 euro al mese. Inoltre, Pogba non può presentarsi alla continassa, essendo sospeso in via cautelare. Al momento si sta allenando in via privata, portando avanti un programma personalizzato. Nella sua abitazione, a Torino, sono presenti macchinari di ultima generazione, presi da Cristiano Ronaldo. L'attuale casa di Pogba era infatti del campione portoghese. Il momento della svolta nel caso Pogba potrebbe arrivare il 5 ottobre, data in cui sono fissate le contraanalisi del giocatore. Successivamente la Juventus, se dovesse essere confermata la positività, potrebbe procedere con la risoluzione del contratto. Mentre Pogba rischia una squalifica fino a 4 anni. Cosa ne pensate di questa situazione?